Buongiorno, questa è la postazione della panchina di Sala Consilina con sotto il centro storico di Sala, quella è la piazza. Qua andiamo sulla parte vecchia, che è la chiesa di San Pietro, con tutta la zona dei Casalini. Questo che vedete è il Vallo di Diano. In fondo, al centro, abbiamo il Monte Papa, che è una delle vette della Basilicata a 2.500 metri. Là ci sta tutto l'appennino campano, con la vetta più alta della Campania, che è questa qui, che è il Monte Cervate, 1899. Poi ci stanno le altre cucuzze delle Puglie e in fondo vediamo l'ultimo, che è il Monte Marta, che è Polla. E questo è tutto il Vallo di Diano. Poi la parte posteriore abbiamo il castello di Sala Consilina, che si vede poco, e poi la parte dietro abbiamo una famosa roccia, che la chiamiamo il Leone, che è la parte posteriore. E questa è la visuale a 360 gradi della panchina di Sala Consilina. Questa è sempre la postazione che ci sta. Grazie.